Insignita di recente del premio internazionale Bruno Zevi per la diffusione della cultura architettonica e la comunicazione tra i più prestigiosi conferimenti dedicati al settore, il maggio dell'architettura rassegna promossa dalla fondazione Sibenarchi si proietta all'edizione 2024, ospitata come sempre nell'affascinante cornice del complesso delle basiliche paleocristiane di Cimitile in provincia di Napoli. Una rassegna che vuole ribadire il ruolo centrale dell'architettura sul piano umanistico, etico e sociale. La conferenza stampa di presentazione dell'evento si è svolta nella sede della Facoltà di Architettura dell'Università Federico II di Napoli, che sta affiancando la fondazione nella strutturazione dell'evento. Ascoltiamo Michelangelo Russo, direttore del Dipartimento di Architettura e presidente di Sibenarchi Claudio Bozzaotra. Un ciclo di iniziative culturali a favore della diffusione di una cultura architettonica. Come devo dire, coinvolgere eppure leggere i temi dell'architettura attraverso una trasversalità sulle discipline che in qualche modo ne vengono coinvolte. Maggio dell'architettura si avvale del patrocinio della regione Campania. Ecco il commento di Bruno Discepolo, assessore regionale all'urbanistica. Un momento di incontro, di confronto, di socializzazione su dei temi, quale la proporzione della qualità dell'architettura, della funzione sociale che questa disciplina poi deve svolgere nel nostro territorio e nelle nostre comunità.